Noi siamo sempre affascinati dai frammenti di storia, di storia tessile che conserviamo nei nostri archivi. Mai come quest'anno sono serviti di ispirazione per essere rielavorati e essere utilizzati per delle nuove creazioni tessili. La collezione 2023 è una totale inversione, è un viaggio ideale nella cultura veneziana. È un'esperienza attraverso il tessile che noi proponiamo nella nostra amatissima città. I velluti che sono le stoffe di arredamento per eccellenza sono sempre state una specialità di rubelli. Lo shadow che è l'eleganza, selts che è un velluto cangiante, corposo, dandy che è un velluto rigato che definirei contemporaneo e abbiamo una nuovissima creazione tessile, tierra che è più materico e corposo e rappresenta la fantasia applicata alla creazione di un velluto. Presentiamo una collezione di cinque nuovi rivestimenti murali. Ci siamo concentrati su quella che è la nostra specialità, la tessitura. In particolare l'effetto metallico con la stampa risulta sempre poco piacevole o comunque non così bello e modulato come si riesce a fare con la tessitura. Quindi abbiamo ricreato l'effetto di un cuoio impresso nell'eliodoro wall per esempio oppure una superficie mossa che vive tutta di materiali e del brillio del metallo in shimmering wall ma anche tessendo della materia naturale del lino abbiamo messo in evidenza tutta la bellezza della fibra naturale in flux wall dove abbiamo aggiunto, e questa è sicuramente una novità, l'elemento del colore modulato sempre in toni pastello secondo quelli che possono essere i canoni più giusti per essere inserito in un ambiente contemporaneo. Grazie per la visione!